Nooo, per pochissima! Brutta partita, brutta brutta brutta. Io sono solo un buffone, tu che scusai? Vabbè, io vado a piangere in un angolino. Partiamo da una premessa importante, non ho la più pallida idea di come si pronuncia il nome di questo gioco. È balatro, balatro, non lo so, gli accenti mi confondono. Fatto sta che si tratta di un gioco di poker in cui più avanti vai, più le carte diventano gradualmente più folli e illegali. Tra gioker che danno power up e moltiplicano le fish vinte e carte modificate che ti permettono di utilizzare dei tarocchi durante una partita di poker, credetemi che sarà tutto quanto piuttosto fuori di testa. Prima di cominciare vi ricordo che fino al 14 luglio andrò a fare la reaction di una partita di Euro 2024 al giorno in live qui su YouTube, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto live, short e video. E ora diamo ufficialmente inizio a questa partita super illegale di poker. Ehm, qualcuno ha faccappato il codice, ma va bene uguale. E comunque la prima mano è sempre quella introduttiva, ok. Abbiamo quattro mani per fare più di 300 punti. Pardon, fiche, perché vengono segnate come fiche. È ovviamente fish, però mi diverte dire fiche. Comunque sì, oltre al valore delle carte stesse ottengo anche dei moltiplicatori in base a quello che è il punteggio che ottengo. Quindi faccio scala reale, ovviamente il moltiplicatore sarà più alto. Se faccio poker sarà 60x7, ok, ok, ok. Posso far qualcosa qui? Beh, posso cercare una scala o potenzialmente un 5 di cuori, quindi vai, scarta. Oddio, volendo potrei giocare la coppia, ha senso? Eh, forse no, ho fatto soltanto 60. Eh, no, dai, cerchiamo i cuori. Me ne basta uno soltanto, non è arrivato. Avrei una coppia di 5, ma... Oddio, una doppia coppia. Il colore mi dà 35x4, mentre la doppia coppia mi dà 20x2. E direi che proviamo a puntare al colore. Vai, rischiala. Ho fatto benissimo, guarda qua. Un, due, tre, qua. Sono a un passo dalla scala reale. Ma vabbè, poco importa, vai, gioca a mano. Easy, prima partita andata e... Beh, è soltanto quella introduttiva. Più avanti andiamo, più le cose diventeranno folli. A partire dal mercato, perché possiamo comprare... Ehehe, Uranus. Converte fino a 3 carte selezionate in cuori. Attenzione, questa è comoda. Scegli tra 1 massimo 2 jolly. E beh, io direi di 1 prendere i jolly, che ci danno un sacco di power up. Più 5 carte della mano, si riducono di 1 in ogni round. Più 15 di moltiplicatore. E dammi questa. Non il massimo per cominciare, ma si può fare. E poi con gli altri soldini che ho, io direi di convertire 3 carte in cuori. Poi le carte rimangono permanentemente cuori, oppure no? Però vabbè, poco importa. Prossimo round. Ok, giusto per testare. Se io dovessi utilizzare il tarocco del sole... Ora questi due sono permanent... Sì, sono permanentemente cuori. Ok, quindi attualmente io ho 4 jack di cuori. Fico? Abbiamo 2 jack, 2 e 3, abbiamo una doppia coppia. Vai, scarta. Fammi cambiare sto 2 intanto. No. Ok, prima di fare altre cagate. Fermi tutti. Giochiamoci la doppia coppia e vaffanculo, vai. Ah, già fatta. È vero col moltiplicatore della carta. Che tra l'altro ha una probabilità su 6 che venga distrutto. Ok, non l'ideale. Tra l'altro ogni gioco mi dà il suo potere. Non sono tutti quanti uguali. Quindi ad esempio questo mi darebbe 2 dollari per scarto. Se non ne uso nessuno sino a fine round. È ok, non conviene. È un cambio gratis per negozio. Beh, no, preferisco usarli in gioco i jolly. Quindi mi apro questi due pacchi. Scegli uno tra tre e tre occhi da usare immediatamente. E dammelo. Crea un jolly casual... Questo mi trasforma delle carte in picche. Beh, potrebbe essere comodo tipo puntare ad avere un mazzo metà picche e metà cuori tipo. Visto che già di cuori ne ho un paio in più. Ah, però ho perso una picca. È come non detto. Dammi un jolly. Preferisco il jolly. Vai, usa. È un cartellino rosso quello. Raga, mi hanno espulso. Questo jolly ottiene più tre moltiplicatori quando salta una busta di espansione. Cos'è una busta di espansione? Ah, quindi può essere che quando dal negozio non compro niente mi aumenta di tre il moltiplicatore. Vero? È ancora più tre. Ah, però non devo comprare niente. Va bene. E il terzo round a schermo è sempre quello del boss che dà delle condizioni particolari. Tipo scarta due carte casuali per mano giocata. Ok, devo fare 600 punti. L'abbiamo visto. Si può gestire comodo. Guardate, ho già una scala. Ho già colore. Io la giocherei subito. Fammi il moltiplicatore. Easy. Vinta. Ma in una mano. Nice. E ho sbloccato un jolly. Dove lo vedo il mio jolly? Questo jolly ottiene un moltiplicatore per una mano consecutiva giocata senza una figura da punti. Ok, no. I bonus qua non mi piacciono. Però mi piace il voucher che mi permette di guadagnare uno scarto. Quasi quasi direi di comprarlo perché mi sembra di aver visto una cosa interessante in vista della prossima partita. Cosa è successo? No, non è successo niente. Perfetto. Eccola qua la cosa interessante. Se salto questa partita, il moltiplicatore di colore viene moltiplicato di tre. Io non vorrei dire, ma mi sembra una cazzata con nove carte e trovarne cinque dello stesso seme. Io schippo. Salta buio. E infatti adesso colore mi dà quanto scala reale. E insomma. Tutte le carte di quadri sono penalizzate. Non me ne frega niente. Vai, gioca. Quindi io adesso realisticamente dovrei puntare tutto quanto sul colore. Intanto andiamo di full. Ce l'ho già in mano. Mi sembra subito non usarla. Adesso mi servivano altri due cuori. Ho già quasi vinto solo col full. E ho i cinque cuori. Perfetto. Merda, ma la banana è OP, regà. Cioè mi aggiunge 15 al moltiplicatore. È dannatamente OP se non si è rotta. Si è rotta la mia banana. Che detto così suona malissimo. Però è la realtà dei fatti. Più 12 moltiplicatore se la mano giocata include una scala. Più 5 carte alla mano. No, questo qua non mi serve. Abbiamo 10 dollari. Che facciamo? Apriamo questi due pacchetti. Vediamo cosa troviamo. 6 di picche che mi dà 3 dollari se alla fine del round ho questa carta in mano. Ti dirò, i soldi servono sempre. Ah, e mi aumenta la quantità di carte nel mazzo. Bello. Ho pensato di doverne rimpiazzare una. E allora, vai, vai. Peccato che non ci sia nulla di cuori, ma... Questa qua mi dà 80 fiche in più. Beh, ti devo dire, dammi, che se voglio costruire davvero un mazzo soltanto di picche e cuori... Oh, ci sta. Eh, guarda che bella manina per iniziare. Scartami i fiori. Vabbè, ma le figure mi danno un sacco. Quindi via tutte quante le picche. Grazie per i cuori. Poppi, poppi, po. Gioca. Ho già vinto. Devo fare 1600. No, quasi però. Eccola. Fammi scartare queste che non servono. Ok. Ho ancora un turno per scartare. Mi avanzano 8 picche e 6 cuori. Sai una cosa? Faccio carta alta? Aspetta, no. Wait. Fammi giocare carta alta. Non faccio niente, ma lo accetto per prendermi più picche. Ah? Beh, bestia, regà. Il mio obiettivo era fare 1600. Ho fatto 3365. Ottimo. Due joker. Se la prima mano del round è un singolo 6, distruggi le crana carta spettrale. No, non mi piacciono i joker che sto pescando. Apriamo questi due pacchetti. Costano 4 ciascuno. Pacco celestiale. Che cosa fa? Aumenta il livello del full, della scala reale o del poker. Ma guarda, piuttosto del full. Se proprio devo sceglierne una, è quella più probabile. Questa qua è una carta spettrale che non ho idea di cosa faccia. Converte tutte le carte in mano in un singolo seme. Ehi là. Ah, in un solo seme casuale però. Rischiamo. Che culo. Che culo. Che culo. Che culo. Ora ho 20 cuori, regà. Però zero soldi. Mi tocca giocare qua. Però aspetta. Questo qua mi darebbe una busta spettrale balzando. Tutte le carte di cuori sono penalizzate. Brutto, brutto, brutto il boss. Facciamo che gioco giusto perché mi serve giocare. Ho bisogno di qualche joker nuovo. Dammi un cuore. Niente cuore. No, ce l'ho il cuore. Che cazzo dico? 1, 2, 3, 4, 5. Ora io dovrei battere 2000. Lo batto in una mano? 2000? No, per poco però. Ho fatto 1200 e 10. Ok. Già finita la mano. Perfetto. Easy. Allora, quel 9 di picca è devastante comunque. Due fish per ogni carta è rimasta nel mazzo. Perché è negativa? Cosa c'è di male sta carta? Mi sembra ottima. Vabbè, non faccio domande. 30 fish per ogni scarto è rimasto. No, non posso aprirlo questo pacco. Vabbè, dai, usiamo il tarocco. Potevo anche risparmiare soldi effettivamente, stupido. Converte fino a tre carte selezionate in picche. Beh, non male. Se mi tolgo definitivamente i quadri, quante me ne rimangono? 11. Non dico di toccare il cuore, ma loro tre usa. Ok. Di fatto l'obiettivo a questo punto è giocare colore di picche e di cuori. Mamma mia, il peggior modo per giocare a poker. Puntare sempre solo al colore. Che stupido. Qua la ricompensa cos'è? Una busta standard mega. No, giochiamo. 3000 li faccio in poco tempo alla fine come punti. Quindi, chi se ne frega, scarta. Ok. 1150 per cominciare con i cuoricini. Eh, qua brutto però. Posso scartarle tutte otto? No, ne posso scartare sempre cinque. Via queste che non mi servono. Ok. Giocami quest'altro colore che poi io la chiamo scala. Però è un errore. Perché in inglese si chiamano flush and trump. Scusate, sono un pepegotto. Vai, gioca ed è fatta. Bene. 3000 e cinque. E si passa alla prossima. Aumento di livello il tris. Una probabilità su due di creare un tarocco quando apre una busta di espansione qualsiasi. Beh, alla fine queste due mi danno la possibilità di usare i tarocchi allo stesso modo. No, dai, dammi questo. Almeno ho un joker. Eh, ok. Qua le carte di cuori sono penalizzate. Nel senso che proprio non danno punti i cuori. Non assegna fish e tutte le abilità sono disattivate. Ah, è. Quindi manco le fish mi dà. Maledetto. Devo puntare alle picche. Eccole qua. Ne ho quattro. Se arriva un dieci ho proprio anche scala reale. Però mi conviene scala reale. Sì, è allo stesso livello del colore. Perfetto. Non è un problema che ci dobbiamo porre però. Gioca a mano. Dobbiamo fare quattromila punti. Ne facciamo quasi duemila. Poi è di doppia coppia. Eh, purtroppo più di così non posso fare. Aia. No, non ce la faccio, regà. Devo sperare di fare abbastanza punti qua. No, cazzo. Mi servono 600 punti mo. Sono fregato. Non ce la faccio. Ah, peccato. Dai, non stava andando male. Forse è meglio se giochiamo a ruba mazzese. Oh, ma che fa? Prende per il culo l'omino qui. Ho sbloccato un nuovo boss. Guadagno 8 dollari se la mano giocata attiva l'abilità del buio boss. Ok, boss. Ah. No, però voglio andare più avanti di 5 round. Dai, sarebbe terribile fermarsi qui. Le carte e buste di espansione in saline del prossimo negozio sono gratis. Salta. Meno una carta nella mano. Non me ne faccio niente, vai. Cambiamo approccio. Non so manco cosa dire. Full. Anche se non ho idea di quale possa essere l'approccio giusto, sinceramente. No, dai, mi servono ancora 10. Ok. Davvero mi servono ancora 10? Ma porca puttana. Vabbè dai, gioco coppia. Oh, tutto gratuito. Ma è proprio lei. La curva di Fibonacci. Ma intanto dammi... Oh, un moltiplicatore per 4. Grazie. Ogni asso. 2, 3, 5, 8. Ho giocato da più 8 quando segna puttana. Ti dirò. La curva di Fibonacci. Non è male? Ne fammi per tutto. Se non costa niente. Io spusto, cazzo. Più 20 se la mano giocata include 3 o meno carte. Più 1 per tarocco usato. Vabbè. Piuttosto che niente è meglio piuttosto, no? Diceva mia mamma. E questo qua è il moltiplicatore celeste. Poker, scala, scala reale, doppia coppia. Colore. Più 2 moltiplicatori, più 15 fish. Dammi. Colore è OP. Perché ripeto, è facile da fare. L'avete visto anche voi. Ah, ne devo usare un'altra. Non posso comprare voucher, però posso andare al prossimo round, che è già quello del boss. Qua posso provare colore con quadri. Fammelo provare con fiori, perché ho carte più alte. Cazzo. Sto rischiando di brutto, eh. Ok, ce l'ho fatta. Gioca. Speriamo che i moltiplicatori siano sufficienti. 77 per 26, 2.002. A posto. Il mio obiettivo era far 600. Ok, questo joker e questo joker assieme sono molto buoni. Riattiva tutti i 2, 3, 4, 5 giocati. In che senso riattiva? Ah, e questo mi darebbe 8 dollari. Beh, fra, scusa. Compra e usa. Cioè, io sto spendendo 3 per ottenere 8, perché questi hanno un valore di 8 totale. Ma allora, vai. Easy, ci ho guadagnato 5 soldi. Puoi cambiare il buio boss una volta per ante? Dammi sto voucher. Così se capita una cosa che non mi piace, la modifico. Bello, bello. E ora con 13 cosa prendo? Un tarocco. Oh, dammi pianeta. Dammi giove, dammi giove. Bravissimo. Ok, prossimo round. Boosta standard mega, chi se ne frega. Boosta arcana mega. Eh, giochi un solo tipo di mano in questo round. In che senso? In che senso un solo tipo di round? Vediamo con tutti questi fiori cosa accade. Il mio obiettivo era fare 800. Ho fatto 2813. Beh, dai. Diciamo che se riesco a one-shotare tutto, io mi sento anche tranquillo. Questo gioio ottene 0,25 ogni volta che una carta da gioco viene aggiunta al tuo mazzo. Potenzia 2 carte selezionate, ha carta molt. Mi sa che mi busta il potere di alcune carte. Carino. Dammi un'altra busta di tarocchi. Distrugge fino a due carte selezionate. Crea un jolly casuà. Dammi subito. Ogni carta giocata assegna punti. Oh, bello lo schizzo. Quindi anche se gioco carta alta mi danno tutti i punti. Benissimo. Comunque però l'ho ancora al mazzo equilibrato. Quindi aspetto prima di usare questa qua. Scegli uno tra massimo 5 tarocchi. Non ho soldi, è vero. Quindi vai. Tutto sui fiori. Tutto sui fiori. Non mi hanno dato un cazzo. Perfetto. Mo' che butto sui quadri mi da due fiori. Ovvio, chiaro, no? Aspetta, doppia coppia, vai. Ah, ho già quasi fatto. Bene. Va che culo. Mo' ce l'ho fatta. Più 4 di moltiplicatore. Vuol dire che l'aggiungi alla fine. Non ho ben capito, però... Vai. Ok, 4.000 punti. Guardate che se faccio colore contro il boss, easy peasy. Potenzia una carta selezionata a carta vetro. Creda un moltiplicatore per due, ma ha il 25% di probabilità di distruggersi. Mmm, fra... No, grazie. Dammi un jolly. Ne posso avere 5 di jolly. Quindi ho perfettamente lo slot per un altro. Cazzo, questo si include una scala. Più 100 fish, meno 5 fish per ogni mano giocata. Cioè, non ho idea di cosa faccio, però ok. Dammi il pacchettino di carta, intanto apri. Più 4 fish, più 1 probabilità su 5 di più 20 come moltiplicatore. E una su 15 di vincere 22. Beh, allora, io andrei su questa. Perché un più 20, anche se è una sola possibilità, mi dà comunque 50 fish di base. Vai, vai. Perciò devo puntare tutto sulle picche. Giochi un solo tipo di mano questo round, ok? Decidi tu o decido io? Decido io. Beh, ok. Allora dammi tipo... Fammi trasformerlo in questi due assi in assi di picche. Usa. Ah no, li ho potenziati. Che stupido, che stupido, che stupido. Ho sbagliato tarocco. Sono un coglione. No, non devo giocarmelo, se mi gioco la coppia. Ultimo scarto, se no poi sono fregato, raga. Cazzo! Ho un full. Ma non basterà mai. No, però poi posso andare avanti con altre carte. Ah, ho già vinto. Nice! Uh, carta che può essere usata come ogni seme. Dammi subito. Come le carte precedentemente giocate sono... Ma sei un pezzo di merda. No, 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 no. Un per otto. Forse ce la faccio con carta alta, fa vedere. Ah no, ho fatto coppia. Perfetto. Joseph J. Joker. Le figure giocate hanno una probabilità di due su delle due dollari. Beh, beh. Mamma mia, ma che pessimo mercato che sto beccando sto giro. Ma no. Non faccio niente per il momento, ma che schifezza. Mamma mia, che bruttura, raga. Sto beccando le mani peggiori di sempre. È il gioco che mi vuole pulire dicendomi... Fra, lascia perdere, non fa per te. E sai una cosa? Probabilmente c'hai ragione. È finita. Ultima mano, una doppia coppia. Tripla coppia. Non la posso usare. No, per pochissima. Brutta partita. Brutta, brutta, brutta. Io sono solo un buffone. Tu che scusate? Vabbè, io vado a piangere in un angolino. Comunque, cavallate, a parte questo gioco mi è piaciuto tantissimo. Ero quasi più concentrato sul cercare di batterlo piuttosto che cercare di fare battute divertenti. Scusate, mi ha preso bene. Voglio giocarci di nuovo. Fatemi sapere se volete un altro video. Grazie.